In questo sesto capitolo della modalità storia, Gabriosta vi farà vedere una splendida battaglia, il robot contro il gatto, quindi si parla di Cyborg contro Catwoman. E poi Catwoman non riuscirà mai a premere l'interruttore off per spegnere il nostro eroe robotico. Cyborg è fortissimo. E anche questa volta abbiamo vinto, e Cyborg ha eliminato Catwoman. Meno male che Cyborg è ancora acceso. Io vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate come sempre. Arrivederci. Grazie. Grazie.